Questa relazione potrebbe partecipare benissimo ad un premio, non so quali sono i premi letterari sulla fantascienza in Italia, ma secondo noi vincerebbe sicuramente il primo premio, perché si basa su tutte previsioni fantasiose da parte di questa amministrazione che in tanti anni non è stata in grado di recuperare la Tari, le multevase, adesso all'improvviso si è svegliata dicendo che riuscirà a recuperare tantissimi soldi dall'evasione. Non ha fatto questo in sette anni, ci chiediamo come sia possibile che lo faccia in pochi mesi. La relazione dell'assessore Panini è ovviamente tutta protesa in qualche modo a dare spiegazioni per quello che è il merito aritmetico che mette insieme dei numeri che costituiscono la nuova proposta di riequilibrio finanziario dell'ente. Il problema per noi dell'opposizione resta lo stesso, c'è la credibilità di quando viene affermato in quella manovra. Voglio ricordare che siamo alla quarta revisione del piano di riequilibrio e tutto quanto fino ad oggi è saltato perché ci sono due aspetti che in qualche modo bloccano gli effetti di quanto ci si impegna a fare. Uno è la riscossione del credito e l'altro è la mancata alienazione del patrimonio immobiliare. È chiaro che se mancano queste due questioni tutto quanto vanificherà sempre qualsiasi pur ambizioso e volitivo disponibilità dell'amministrazione e dell'ente di poter fare la sua parte.